Come trovare il sito di classe da modificare? Prima di tutto mi assicuro di aver eseguito l'accesso con le mie credenziali d'istituto. In secondo luogo clicco sul pulsante delle app e clicco sul site. Poi clicco su sfoglie siti e scelgo la categoria desiderata. Per esempio wiki primaria Mondolfo. Poi clicco sul sito che intendo modificare. Quindi ad esempio, poiché sono un docente o un account in questo momento di docente della secondaria, clicco su wiki scuola media ed ecco che cliccando su uno dei siti mi apparirà in alto a destra la matita e questo mi permette di modificare il sito.